ciao nei tutorial precedenti ci siamo occupati di file multimediali quindi abbiamo parlato non solo di presentazioni ma abbiamo visto come trasformarle in video e aggiungere elementi come ad esempio dei file musicali nel tutorial di oggi voglio farti vedere come realizzare un video partendo proprio direttamente dalla categoria video che ti propone canva apriamo la nostra home page come al solito clicchiamo su video e prendiamo una presentazione come al solito sulla sinistra si apre tutta una serie di possibilità di video già pronti che però si possono modificare io potrei adesso ne scelgo una casa io potrei scegliere questo e mi viene detto quante sono le pagine che compongono questo video in questo caso 5 io ovviamente ho la possibilità di scegliere una due ma anche tutte cinque e poi in fondo mi viene detto qual è il nome del font che viene usato in questa presentazione e qual è la palette di colori che rappresenta lo stile di questo video tutti questi elementi sono come al solito assolutamente modificabili io posso modificare il testo posso cambiargli il colore posso usare tutto ciò che mi viene proposto nella barra in alto come succedeva in tutti gli altri elementi che abbiamo visto e a proposito di elementi anche in una presentazione già pronta io posso aggiungere degli elementi ovviamente adesso ne ho messo uno che non c'entra nulla ma era solo per farti vedere che posso aggiungere qualsiasi cosa partiamo però nel nostro caso da un video vuoto così vediamo insieme come costruirlo da zero quindi abbiamo detto video crea un progetto vuoto come sempre noi dobbiamo sapere bene qual è lo scopo del nostro progetto perché questo ci aiuta a scegliere ciò di cui abbiamo bisogno facciamo finta che dobbiamo preparare un breve video per l'open day della nostra scuola allora io all'interno della sezione della ricerca scrivo scuola e vado a cercare un template che mi piaccia questo ecco qui questo è il nostro template naturalmente io qui inserirò tutti gli elementi di cui ho bisogno e modificherò secondo il mio gusto e le mie esigenze intanto devo cambiare la scritta quindi clicco sul testo benvenuti all'open day posso diminuire leggermente ecco qua spostare decido che la mela non mi interessa e neanche le cuffie ingrandisco un pochino gli occhiali cliccando posizione li porto sul davanti della scritta vedi in modo che vadano a toccare la lettera che cosa voglio inserire ad esempio voglio inserire istituto pinco pallo che è il nome della mia scuola e lo voglio mettere questa scritta la voglio mettere qui di fianco allora facciamo così naturalmente ecco già noto che è è vero che mi ha messo lo stesso colore di questa scritta però il carattere proprio non va bene allora voglio mettere la mia scritta nello stesso font di questo che mi piace veramente tanto come faccio a sapere come si chiama questo questo font clicco sopra ed ecco che il nome mi viene messo qua blueberry clicco apro la tendina dei font e me lo ritrovo come prima scelta perché perché è il font principale della pagina che io ho preso quindi mi basterà cliccare su blueberry ed ecco che io che io ho la scritta nello stesso nello stesso stile ricordati che avrei anche potuto selezionare una delle due parole cliccare su copia stile e poi cliccare sopra questo altro elemento se volessi potrei cambiare come vedi il colore dello sfondo metterlo arancione metterlo rosa un po terribile però insomma tanto per farti vedere che posso cambiare gli elementi come voglio ecco teniamolo teniamolo così per far vedere le modifiche rispetto all'originale questa potrebbe essere la pagina di inizio io però voglio dire qualcosa d'altro voglio dare qualche altra informazione allora come abbiamo già visto nelle presentazioni mi metto nella barra sotto gli dico aggiungi una pagina in questo caso siccome io qui ho modificato il colore dello sfondo quando gli dico aggiungi una pagina è evidente che lui me la aggiungerà tenendo lo stile come io l'ho cambiato qui inserirò ad esempio un testo inventiamoci una data naturalmente decido di utilizzare sempre lo stesso stile questo è importante perché altrimenti può diventare che altrimenti può diventare antipatico ecco ho messo la data mi sembra che la scritta sia un po troppo appiccicata ricordati che tu hai anche la possibilità non solo di spaziare le lettere tra di loro ma anche le righe semplicemente muovendoti così benissimo cambio colore alla mia scritta questa volta metto il verde e poi inserisco una foto mi interessa una foto di bambini perché stiamo parlando di scuola quindi vediamo che cosa mi propone metterò questa qui e poi posso inserire anche un video io scelgo sempre mettiamo bambini scuola ecco mettiamo questa qua che mi sembra una ragazzina studiosa questo video dura 13 secondi mi sembra un po tanto allora noi abbiamo imparato che se io vado qui posso decidere di bloccare il mio video molto prima ecco già qua potrebbe essere abbastanza vediamo la facciamo tornare ecco mi dico fine e ho messo un video che adesso è diventato vedi di poco più di sette secondi e il video magari lo metto qui mi sembra un po vuota la pagina vorrei dare un po più di risalto a queste due a queste due immagini allora intanto riproduzione gli dico di riprodurlo in loop non si sa mai e lascio la riproduzione automatica poi che cosa faccio inserisco delle forme per rendere più evidenti questi due elementi che ho inserito allora vado su elementi linee e forme e scelgo non so questa per qui e poi scelgo questa ok da mettere qua allora come faccio al solito intanto gli devo dire di andare dietro perché altrimenti mi copre la foto perfetto vedi che è stata messa dietro e adesso prendo un po le misure e cerco di deformarla in modo che la foto rimanga al suo interno posso anche decidere di rimpicciolire un pochino la fotografia ecco così perfetto posso anche metterla un po storta tanto vedi in modo che coincidano i due angoli direi che va proprio bene se questo verde non mi piace perché è troppo scuro posso metterlo in giallo benissimo e poi seleziono vedi cliccando con il tasto sinistro del mouse e trascinando questo rettangolo va a prendere tutti e due gli elementi vedi che comprende sia la forma che abbiamo messo dietro sia la foto e gli dico raggruppa in questo modo se io volessi spostare l'elemento sposto tutto il blocco non devo più star poi a fare coincidere l'immagine con la forma che c'è dietro perché le ho bloccate adesso faccio lo stesso lavoro con il video che anche qua mi sembra un pochino grandino ok allora metto dietro la figura la allargo fino a comprendere il mio video ecco ecco anche qui cambio colore e invece che verde lo metto di questo colore qua e come prima se le vedi cosa succede se si sbaglia seleziono i due elementi ecco attento perché se io vado di qua seleziono anche la parte sopra io invece voglio prendere solo questi due è sufficiente che ci siano due pezzi dell'elemento non è necessario comprenderli tutti raggruppa facciamo una prova ecco qua benissimo e lo piazzo e lo piazzo qui magari ecco in questo modo e poi potrei andare a prendere questo ad esempio lo metto qui in basso piccolino per creare una sorta di cornicetta in che modo? duplico di un po' di volte vedi la mia immagine poi la faccio coincidere in modo da creare una sorta di disegno qui è troppo grossa mi basta soltanto arrivare al primo pezzettino della matita con la gomma semplice ripassiamo anche questo taglia prendo la maniglietta arrivo fino fino a qua gli dico fine lo metto qui posso ritagliare ancora un pochino perché comunque ecco fine ed ecco che ho fatto il mio lavoro con una cornicetta posso anche inserire un elemento dinamico per evidenziare la data ovviamente dovrò fare in modo che le frecce vadano nella direzione giusta così aggiungiamo un'ultima pagina mi serve perché poi voglio farti vedere un'altra cosa importante sarebbe bene mantenere lo stesso sfondo perché ricordati che noi stiamo creando un video però nulla mi impedisce di decidere che invece lo sfondo lo voglio cambiare vedi posso farlo tranquillamente io te lo sconsiglio però è una possibilità che c'è ed è giusto che tu lo sappia allora anziché mettere un colore di sfondo io vado a sfondo e voglio mettere uno sfondo come se fosse una parete un muro allora proviamo a scrivere muro e vediamo che cosa viene fuori ecco qua vedi e io scelgo questo perché scelgo questo scelgo questo perché mi sembra che come colore si intoni molto bene con lo sfondo del mio video però a guardare bene io sto facendo l'open day di una scuola della mia scuola se faccio vedere che i muri della mia scuola sono ridotti in questo modo non è molto bello quindi questo è un altro esempio per farti capire come la scelta di tutto quello che fai deve essere una scelta estremamente ragionata ti piacerebbe andare in una scuola conciata così conciata così per l'open day tra l'altro direi proprio di no vediamo questo colore ma a questo mi sembra mi sembra più simpatico benissimo questo sarà il mio sfondo che cosa metto su questa parete voglio mettere una bacheca allora vado su elementi e vado a scrivere bacheca vediamo che cosa viene fuori guarda che bello direi che questa fa al caso nostro una bacheca benissimo questa bacheca dovrà essere appesa al muro in qualche modo però facciamo finta allora intanto le facciamo una cornicetta come faccio fare una cornicetta? semplice vado di nuovo a prendere una forma allora questo è un rettangolo con gli spigoli quindi io prenderò un rettangolo con gli spigoli lo faccio lo metto dietro come al solito lo faccio coincidere in modo che ci sia una sorta di cornicetta posso anche lasciarla gialla va bene e poi che cosa posso fare? intanto bloccare queste due ok vedi che adesso se io sposto la mia bacheca si sposta anche la cornicetta e poi posso fingere che questa bacheca sia appesa al muro allora come faccio? semplice utilizzando sempre delle forme questa volta però vado a prendere delle linee prendo questa linea la giro tanto è troppo lunga la metto così poi gli dico rendila un pochino più grossa ecco così va benissimo nera va bene la duplico perché la duplico? perché io ho bisogno di due linee uguali così evito di dover andare a prendere un'altra linea trovare lo stesso lo stesso spessore invece ce le ho tutte e due le metto nella posizione in cui mi ricordano faccio coincidere qui metto un pallino piccolo per fare il chiodo lo metto proprio piccolino piccolino ok lo metto qua ovviamente in nero raggruppo tutte e tre questi elementi attento bene a raggruppare soli tre vedi che gli elementi che hai selezionato vengono contornati di viola benissimo li raggruppo anche perché ci abbiamo messo tanto se tutte le volte che devo spostarlo mi parte tutto bene e poi lo metto lo metto dietro vediamo l'effetto ok benissimo quindi abbiamo fatto finta di appendere la nostra bacheca adesso all'interno di questa bacheca scriverò ci vediamo il il 5 dicembre bene lo metto sempre in Blueberry lo sposto qui poi siccome vedi il post it è leggermente inclinato devo inclinare anche la scritta benissimo e qua scriverò alle ore 10 e 30 prendo la mia scritta prendo la mia scritta la metto qui la inclino perché il post it è un po' inclinato perfetto proviamo a vedere se funziona copia stile ecco qua alle ore 10 e 30 anche questi elementi li blocco tutti a questo punto raggruppa perfetto adesso se io faccio così posso spostare la bacheca ma non mi succede più nulla diciamo che abbiamo terminato il nostro lavoro adesso diamo un'occhiata alla barra qui sotto allarghiamo un pochino l'immagine ecco qua questa barra sotto assomiglia molto a quella delle pagine della presentazione però ci sono alcune differenze intanto essendo un video quando io guardo l'icona della pagina la prima cosa che noto è che in basso a sinistra mi viene segnalato quanto dura quella immagine nel video quindi io ho la prima pagina di 7 secondi e 6 la seconda 7 secondi e 4 la terza 5 secondi come faccio a modificare? semplice come vado col mouse vedi che si formano queste manigliette laterali io non faccio altro che cliccare quando il cursore cambia immagine stringere un pochino e dire 7 7 secondi vanno bene anzi sono fin troppi diciamo 5 così le facciamo un po' diverse 5 secondi questa la faccio arrivare a 8 perché la faccio arrivare a 8? perché all'interno ho un video quindi devo dare il tempo di vedere il video e l'ultima va bene 5 secondi facciamo 6 così è diversa anche questa ecco in questo modo io ho stabilito che il mio video in totale durerà 19 secondi un'altra cosa che posso fare sempre agendo su questa barra è cliccare qui quando noi eravamo in presentazione cliccando tra una slide e l'altra potevi aggiungere una pagina qui non solo puoi aggiungere una pagina ma vedi che è comparso un altro simbolo aggiungi transizione clicchiamo cosa succede? succede che ti si apre la barra di sinistra e ti dà la possibilità di scegliere in che modo passare da una pagina all'altra se tu metti il mouse sopra vedi che ti dà l'anteprima diciamo dissolvenza posso farla un pochino più lenta mi do un secondo ok e poi sempre per il discorso dello stile io non devo presentare un video minestrone o macedonia ma devo presentare un prodotto fatto bene applico questo modo di passare da una schermata all'altra a tutte le pagine in modo che siano uguali vedi che qui è cambiato il simbolino questo simbolino ti dice qui c'è una transizione della posizione quindi salta le tue le tue le tue le tue Grazie a tutti